Già cimenti. Silenzio che riempie le città, le piazze, le biblioteche. Un silenzio denso, impenetrabile. Un silenzio che, tuttavia, lascia intuire sussurri. Nel pieno della pandemia, dopo oltre 110 anni, la Biblioteca Nazionale riscopre un fondo custodito in 1046 scatole, trasferite dalla vecchia sede nel 1972. Dentro ci sono 17.000 volumi, 11.000 opuscoli, testi del 500, 600 e 700. 556 metri di libri provenienti da tutto il mondo. La vena principale di questo giacimento è costituita da doni giunti dopo il grande incendio del 1904. Coraggiosamente, la dirigenza chiede che ogni pagina, ogni foglio, ogni parola vengano messi in sicurezza. Nasce così il progetto La Biblioteca nella Biblioteca, la cultura del dono. La Biblioteca nella Biblioteca nella Biblioteca, la cultura del dono.